Eclettica, elegante, curiosa e esploratrice di ogni ambito musicale, spaziando dal jazz al bop, dai classici italiani al Sud America. Universi che conquista con determinazione e padronanza. Greta Panettieri sarà sul palco di Jazz in Campo in Molise a Campo di Pietra per una One Night, un concerto particolare in questa estate 2023. Sul palco, insieme a lei come special guest, Maxio Nata, virtuoso del sax tenore, nato in Abruzzo e di origini molisane, che ha condiviso tante volte la scena con Greta. Epico rimane il loro interplay a Umbria Jazz tre anni fa. E il soltanto parole tra di noi Cari amici di Jazz in Campo, sono Greta Panettieri e vi do appuntamento per giovedì 20 luglio in Piazza della Rimembranza a Campo di Pietra. E sono felicissima di annunciarvi che insieme a me ci sarà anche il mio caro amico Maxio Nata al sax tenore e poi la mia band storica, Andrea San Martino al piano, Daniele Mencarevi al basso, Alessandro Paternesi alla batteria e ovviamente la sottoscritta. Una voce duttile e potente, velluto e cristallo allo stesso tempo come quella di Greta Panettieri, si fonde con lo stile personale e riconoscibile di Maxio Nata. L'ascolto giovanile ripetuto di John Coltrane, Sonny Rollins, si stempera con l'ambiente quasi fusion, in stile Jay Bekenstein o Groover Washington, fino a evocare, scavalcando il confine del jazz, le atmosfere di Henry Mancini. Le ragioni di un successo che spazia dalla Danimarca al Giappone risiedono nella originalità con cui Yonata e il suo Selmer si fondono ogni volta. Io sono Maxio Nata e vi aspetto giovedì 20 luglio a Campo di Pietra per un concerto insieme alla bravissima e bellissima Greta Panettieri con il suo quartetto. La rassegna si chiama Jazz in Campo e io non vedo veramente l'ora di suonare per voi in questa terra meravigliosa che è il Molise. Una serata di grande musica, dunque quella del 20 luglio a Campo di Pietra, nell'ambito della 19esima edizione di Jazz in Campo Music Festival. La rassegna si chiama